Armin, vieni dallo zio piccolo, dai. Non si può stare qui. Via da qui. Deve essere facile partire. Anche se si trattasse di solo i sei mesi, sarebbe dura lasciare tutti gli amici e parenti qui. Vieni dalla mamma tesi. A volte penso che se dovessi andare a fare un viaggio, anche di tre sole settimane, impazzirei. Vedrai che ti passerà. Starete lì un paio d'anni e poi tornerete qui. Quale nini, tesoro? Loro non hanno bambini. Che ti ha preso oggi? Perché fai il monello? E voi due avete già preso la vostra decisione. È inutile continuare a pensarci adesso. Qui non c'è nini. Loro non hanno i bambini, tesoro. E poi non dovete mica rimanere lì per tutta la vita. Non fare così, smettila. Li trasferite per un paio d'anni e poi tornate qui. Perché fai capricci? Nini non c'è, loro non hanno bambini. Lascia la mano a mamma. Sara, io vado un momento a vedere che cosa vuole. Va bene, andiamo a cercare nini. Andiamo. Te lo prendo io.